E' un annuncio che probabilmente getta una nuova luce, quello che il buon Fabio Fazio, personaggio televisivo di spicco non più emergente ma ormai pienamente affermato, il quale di recente ha fatto un annuncio che probabilmente destabilizzerà i fan più accaniti di costumi. Infatti attraverso l'intervista lo stesso Fabio Fazio ha detto tante cose diverse ma quella che ha colpito più di tutte sarebbe il fatto che tra 4 anni lascerà la televisione, in particolare Fabio Fazio avrebbe detto tra 4 anni lascio la tv, la televisione, ho fatto già abbastanza, tuttavia il regolamento di Sanremo sembra fatto contro di me. Ovviamente molti fan di Fabio Fazio non l'hanno presa bene, sapere che il proprio amato Beniamino, il proprio amato personaggio della tv italiana vada via da questo mezzo così importante lascia la mano in bocca e destabilizza gli animi, anche quelli più sensibili. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, come la prendete voi, come la prendi tu che mi stai guardando uomo, donna, ragazzo, ragazza? Fammelo sapere attraverso un commento, mi raccomando iscriviti al mio canale youtube, narrato italiano, commenta, ciao a tutti e una buona giornata a voi. Se faccio presente che questo video non vuole leggere la prevede di Fabio Fazio né di altre persone, ma solo informare questo video.